Quello che si prospettava per i residenti dalla parte vicino al cavalcavia verso San Costanzo nel quartiere della Tombaccia era il completo isolamento in un triangolo circondati da barriere antirumore, un ghetto praticamente. Ma ora la variante del percorso è stata approvata ed il tracciato originale deviato togliendo così da una condizione estremamente penalizzante gli abitanti dentro il perimetro interessato. Una battaglia di buonsenso e ragionevolezza portata avanti anche da Don Marco Polverari, anch'esso residente in zona, che ora gioisce per l'accoglimento da parte dell'amministrazione delle loro subbliche. Sì, guardiamo con molta soddisfazione la zona, due anni fa l'abbiamo guardata con preoccupazione, adesso con soddisfazione perché riusciamo in qualche maniera a coronare una domanda che sembrava impossibile e siamo riusciti invece a ottenere nel tracciato di questa strada la capacità di saper verificare sul posto il tracciato nel suo insieme e sono state apportate quelle modifiche che nel bene comune fanno meno danni possibile ai singoli. Avete avuto anche una buona parte d'ascolto. Con il sopraggiungere la nuova amministrazione in forza di questo esposto, quando già i lavori erano nella fase esecutiva perché noi avevamo già avuto gli espropri, questa amministrazione ha avuto il coraggio di guardare con responsabilità e questo ci tengo a dirlo, l'itinerario di questa strada, il coraggio e l'autorità di dire è il mio territorio, voglio il bene ma facendo il meno male possibile e così è stato fatto. Un risultato, quello dei residenti della Tombaccia raggiunto non solo per via delle opposizioni che in consiglio comunale hanno giocato le loro carte ma anche e soprattutto per la tenacia dei residenti e, ci dicono loro stessi, per la disponibilità dell'assessorato ai lavori pubblici all'ascolto e al confronto. Fino dal primo momento che si è insediata questa giunta sono stati interpellati da noi i residenti, ci hanno subito ascoltato senza fare grandi promesse o illuderci di qualcosa che poi dicendoci che non era facile perché già era tutto definito, tutto appaltato, tutto approvato, quindi non era facile però ci avrebbero provato e quindi siamo qui per controbattere le dichiarazioni dei 5 Stelle dove dicevano che abbiamo ricevuto porte in faccia, non siamo stati ascoltati, questo mi sembra che sia troppo nei confronti di questa amministrazione.